2 marzo 2024, Teatro Pirandello, Festivale. Che cosa succede? Succede che oggi c'è il Festivale Off, ovvero non un'anteprima ma un evento speciale, appunto fuori stagione, destagionalizzato, invernale. Per la prima volta siamo al chiuso, siamo in questo meraviglioso posto, ovvero il Teatro Pirandello, in pieno centro storico, perché vogliamo innanzitutto abbracciare non solo la valle, come abbiamo fatto sempre in questi anni, ma anche tutta la città, Festivale, appunto, da 7 edizioni va per l'ottava, l'ottava edizione sarà dall'8 all'11 agosto, ed era un motivo perfetto per mettere insieme due artisti diversi, ma con dei punti di contatto. Abbiamo qui Fabio Celenza e ci sarà Chassol, che è invece un artista francese, anche lui altrettanto rinomato, come Fabio, per il loro tipo di arte, ecco. Fabio Celenza è un grande onore per la mia città a ospitarti, l'avevo la tua prima volta da Grigento, è vero? Sì. Che cosa ti ha portato qui? No, mi ha portato lui ad Grigento. Colpa mia. Colpa sua, mi ha invitato, io ho detto sì, vengo. Vengo, che cosa porto ad Grigento? Di che cosa ci parlerai questa sera? Ma io non parlo, faccio parlare il video, faccio parlare agli altri. I personaggi. Che parlano, li faccio parlare attraverso di me, oppure sono loro che parlano, o sono io che parlo attraverso di loro, però, insomma. Come vi siete conosciuti? Ma noi, a Milano, sembra una storia d'amore, ci siamo conosciuti a Milano, però sempre in ambiti artistici ci siamo incontrati e poi, siccome, ecco, vi spiego un po' l'antefatto, come dicevo, questo festival vuole essere, questa serata vuole essere dedicata soprattutto agli agrigentini, la gente locale, per stimolarli un po' anche all'ascolto di sonorità differenti, così come facciamo in estate. Però, a differenza dell'estate, quando c'è un turismo anche diverso, anche di residenti, di siciliani residenti che vengono fuori, volutamente volevo, ecco, portare soprattutto gli agrigentini. Diciamo che l'esperimento è riuscitissimo, il teatro sarà pienissimo, e però mettere insieme Fabio è stata un'idea che mi è venuta in corso d'opera perché avevo contattato Chassol, il quale, facendo questo spettacolo audiovisivo tra cinema e musica, lui è un regista, è un musicista, compone attraverso questo metodo compositivo che si chiama Ultrascore, partendo dalle immagini, suona sulle immagini, Fabio fa la stessa cosa, anche lui è un fan di Chassol, quindi una sera ci siamo incontrati e ho detto, senti, ma perché non proseguiamo la serata, l'allunghiamo, e vieni anche tu a chiudere la serata del Teatro Pirandello dopo l'esibizione di Chassol. E così è. Ti dovrei, dovresti venire ogni volta che mi fanno le interviste a raccontare, perché hai già detto tutto perfettamente, potrei solo rovinare la splendida esposizione di Fausto. Ma la propaganda live va il Pirandello. Sì, sono tornato prima a casa, però non è stata diretta. Va bene, ragazzi, ma poi vi troverò tutti e due a ballare insieme, dopo la serata. Non lo possiamo dire, perché se no le nostre ragazze si arrabbiano, però sì. Le nostre mogli, in questo caso. Bene. Ok, ma abbiamo detto che il Festival è off, perché comunque il Festival rimane fisso quest'estate. 8-11 agosto rimane fisso e soprattutto, attenzione, appuntamento a mercoledì 6 marzo, perché annunciamo i primi nomi di Festivale 2024. a mercoledì 6 marzo, perché annunciamo i primi nomi di Festivale 2024. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.